Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, 2 km di coda per un veicolo fermo al km 266 e 600 tra Barberino di Mugello e Calenzano, Sesto Fiorentino. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello, sempre verso Roma. Spostandoci sulla FIPD, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici, in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori tra Navacchio e Cascina, sempre in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!